E' stato inaugurato stamani l'argo della Fontana delle Cinque Cannelle, l'area situata nei pressi della Basilica della Madonna dei Sette Dolori a Pescara Colli. Lo slargo, rimasto per decenni privo di denominazione, è utilizzato come area di parcheggio tra Strada Vecchia della Madonna e Biaconte Genuino. Sicuramente abbiamo dato tanta attenzione ai luoghi identitari della nostra città di Pescara, proprio per consentire di riscoprire tanta storia che c'è nella città di Pescara. E abbiamo avviato come Assessorato alla Cultura un percorso che abbiamo denominato Incontri con la Storia della Città. Il primo appuntamento è stato proprio alla Fontana delle Cinque Cannelle, qui alle nostre spalle. A seguito anche di questo incontro, che ha visto la partecipazione di tanti cittadini, ho anche avviato la richiesta, che poi è stata accolta e votata in giunta comunale, di intitolare appunto questo largo, che non aveva prima una denominazione, Largo Fontana delle Cinque Cannelle. Credo che sia doveroso per la città riconoscere una parte importante della storia, soprattutto di questa comunità dei Colli, che è molto importante, è stato il primo nucleo, se vogliamo, collinare della futura città di Castellammare e poi di Pescara. Il nome dello slargo, aggiunto ancora l'Assessore, deriva dalla fontana esistente e pienamente funzionante, dono della sindaco Muzzi al quartiere Colli Castellammare, quale risarcimento morale per lo spostamento del municipio nella sede dell'attuale conservatorio. Assessore, per concludere, intenzione e volontà dell'amministrazione comunale di dare maggiormente dignità, anche provvedendo a rifare la pavimentazione che ne ha proprio bisogno? Sì, sicuramente, ci sono richieste proprio per pianificare l'intervento per ripristinare il manto di asfalto del Largo, ormai Largo Fontana delle Cinque Cannelle, ma anche il posizionamento di alcuni paletti intorno alla fontana, perché purtroppo, troppo spesso, arrivano degli automobilisti che parcheggiano proprio al ridosso della fontana. E credo, insomma, che sia arrivata l'ora di dare un'ulteriore maggiore dignità a questa fontana, che tra l'altro sarà anche indicata nella nostra app Vivi Pescara come luogo di interesse della città di Pescara.